buongiorno cadetti io sono di gabriel ci siamo qua su egypt kids eh sì ragazzi continuiamo la nostra avventura dobbiamo portare da mangiare a noi quella bagasse di sbagasse va bene per il ciasco ma non lo prendo io non bevi questa cibo per fortuna non l'abbiamo incontrata altrimenti spero che tu non sia troppo stanco stanotte quel ciccione di ipo ci ha mandato un altro messaggio ma stava dormendo volere adesso forse qualche topo da aggiungere alla sua collezione sarà un'occhiata al messaggio vediamo anzi sentiamo ciao drago è stato davvero molto bello rivederti ho ancora bisogno del tuo aiuto ma rilassati niente di preoccupante prometto nai è ancora nascosta nel fienile e ha bisogno di cibo sì me l'hai già detto allora deve essere un po tocco quel lippo cosa ne roda? dobbiamo fare un viaggio di 4000 anni solo per portare un vassoio a nai però l'egitto più lo vedo e più mi piace ma si 12 happy food vai portiamo uno snack del cazzo che gli fa pure male una scatola di happy food buona scelta credo che nai non abbia mai mangiato niente di così gustoso probabile dai eh eccoci qua buongiorno andiamo a portare i nostri saluti a nai le consegniamo l'happy food e poi ce ne andiamo ah solo tutto qua dobbiamo fare? cortile dei ripositi andiamo da nai portiamoli da magna eh sì andiamo da nai portiamoli da magna ed ecco nai sta qua nai siamo noi puoi uscire abbiamo una sorpresa per te strano non risponde aspetta strano per me ma nai è sparita cosa sono successo? aspetta andiamo di qua vediamo se c'è qualcuno hai visto quel pettorale lì per terra? lo raccogliamo? è bello averne uno anche se rotto ma è sempre quello che avevo dato al tizio lo riconosci? ah è quello che avevi dato a Sobekotek a Sobekotek quel vecchio furbone di un diavolo deve avere trovato meglio porca merda quindi se torno a casa vediamo se c'è Sobekotek che gli spacco il culo andiamo a vedere se c'è prima di tutto ecco l'orribile dimora del mercante di schiavi fai gli scongiuri speriamo che non sia in casa sì devo sempre sperare che non ci sia poi se un giorno mi becca mi ammazza ancora sempre chiusa sta cazzo di porta vediamo se c'è qualcosa non c'è niente proprio niente niente vabbè torniamo da Ippolporco magari sa qualcosa deve essere andata così Sobekotek ha rapito Naï e l'ha riportata a casa sua sarà molto più difficile dare a Naï la tua scatola di happy food il meglio che possiamo fare è andare a curiosare intorno alla casa di Sobekotek ricordi? quella con la porta gialla ehi questo posto è piuttosto freddo puoi scattare una fotografia se vuoi più avanti la ritroverai nell'album mango ah ok andiamo da Ippolporco 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 allora che ti hai trovato Naï? sono così preoccupato Sobekotek ha sequestrato la mia cara Naï se solo potessi mettere le mani su quel bruto lo darai in pasto ai coccodrilli del dino un caldo benvenuto amici miei ma dalle vostre facce direi che le cose non vanno come dovrebbero ah non te l'ho già detto? dipendo da voi per aiutare Naï allora cambiamo inventario dimmi dov'è Sobekotek? posso introdurvi nella casa di Sobekotek? possiedo una chiave che apre tutte le serratune giocate con me e sarà vostra ma siate prudenti Sobekotek è un cliente pericoloso e farà ricorso a ogni mezzo ma non me ne frega un cazzo giochiamo allora dobbiamo trovare tutta la roba andiamo per visitare tutti i luoghi famosi dell'Egitto dell'epoca dei faraoni clicca su nuova partita quando sei pronto non posso aspettare ah certo scegli il livello lo gioco io se hai bisogno di altre spiegazioni clicca su di me allora questo del cacodrillo no perché mi fotte pirati mi ruba la roba andiamo ad aduano sulla sinistra puoi vedere le tue riserve attuali mentre a destra puoi osservare le riserve del luogo in cui ti sei fermato eh però questa non è roba che mi serve vabbè prendiamole giù lo stesso oh vaffanculo che cazzo tre ore per trovare due cazzo di oggetti un po' di merda so che tutto ha vuoi provare ancora? no no clicco subito esci ecco la chiave che apre tutte le porte sto buttando ce l'aveva madonna torno subito eh dov'è che si torna a casa? neanche pericolo ok posto andiamo da sopra becco tecchi il grande buttano oddio guarda sperando che non sia a casa perché sennò arrivo lì mentre si sta a spippà una brutta scena una brutta scena grazie Ippo funziona che è un piacere e vai prima tu così potrò avvertirti se so becco tecchi ritorna si so becco tecchi mi ammazza ecco vedi una i da qualche parte tu? io no uh cazzo di corridoio ci sono le scale ragazzi perché dovrai venire qua? va bene cos'è sta roba? strano questo affresco è proprio bello ma ne mancano dei pezzi oh cristo passaggio segreto passaggio segreto attento c'è una trappola ti tireremo fuori di lì nai non preoccuparti della trappola conosco bene due lati è un tipo in gamba useremo la mappa per andare da lui andiamo da due lati che cazzo è due lati? guarda non pensi che sarebbe una bella foto? si lo pensi solo tu ma vabbè donamo donamo di là non si va andiamo qui dov'è due lati? due o tre lati chi è quello che va è gualati? ah è my name is gualati questo qua è lo scrivo non fare rumori è uno scriva scusa è lui che realizza tutti questi bei disegni sul papiro è la scrittura egizia quindi se gli chiedo ma va cagare qui che cazzo serve allora? neanche mi parla non fare rumori va bene va bene va bene scusi mi sono buttano ecco il buon vecchio due lati dagli un colpetto per svegliarlo che è quello lì? due lati? ciao bello com'è? speriamo che due lati sia di luna buona sei una buona ancora tu drago lasciami in pace l'ultima volta giocando col fuoco mi hai quasi grigliato vivo io boh drago di merda sei sordo drago? se vuoi parlare con me vai prima a tuffarti nel nilo non voglio vedere draghi cioccolatino tu vuoi liberare naida la stanza segreta di Sonecoteb perché non l'hai detto prima? ti aiuterò gioca con me e ti svelerò il segreto dell'affresco clicca sul corpo dello scriva va bene ok dimmi che dove fa? due lati ci sta sfidando facciamogli vedere di che stop ma si cazzo quando sei pronto clicca su nuova partita scegli il livello devi ricomporre il puzzle che appare in alto a sinistra puoi ingrandirlo cliccandolo tutto qua non puoi piazzare qui quel pezzo ma sto zitto e voi vuoi riprovare? no la prima cosa che chiedono vuoi riprovare? non bravo sei sordo drago? se vuoi parlare con me vai prima a tuffarti nel nilo non voglio vedere draghi il meglio che possiamo fare è andare a curiosare intorno alla casa di Sonecoteb ricordi? quella con la porta gialla no mi prendi per il culo mi prendi per il culo cioè io gioco con te se ti giochi so easy e poi dopo non mi aiuta neanche grazie 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 ai due lati poi te spiezza in due poi vedi vediamo se ci sono dei pezzi qua in giro si può andare di qua ma ci sono già stato prima wow quello là hey Mr. Sobekotech no non mi dice un niente quindi i pezzi probabilmente sono in casa certo lui vi sparge Sobekotech da furbo vi sparge in casa così no se arriva uno deve liberarne ai li trova tutti in casa certo certo cioè oh là c'è un pezzo l'ho visto l'ho visto l'ho visto ecco uno come cazzo faccio prendere oh è lì donna vai cazzo guarda cosa c'è qui un frammento di affresco uno qua poi vediamo 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 oh va con uno indicava qualcosa qua no possiamo andare di là vediamo se riusciamo intanto a formare il cazzo di affresco ok è evidente che ci mancano uno barra due pezzi se qua si va su eccolo vai madonna mia difficile sti buttani anche perché prima non c'era sono andato nelle scale ma non c'era un guest uau ecco fatto siamo più bravi di quello zoticone di Sobekotech se vuole però incatera la bambina abbiamo trovato cazzo da fare ma è incatenata questo Sobekotech è un sadico come facciamo a spezzare la catena orco Giuda sei un drago non so parlaci tu con lei sono così contenta di rivedermi ma ero tanto spaventata qui aiutatemi ma non penso che riuscirete a spezzare la catena è inutile non avrei mai dovuto rubare quelle statuette cogliona si ma l'avevi già detto non so posso chiederti ho ascoltato una conversazione tra Sobekotech è uno dei suoi amici saccheggiano le tombe solo il governatore può fermarli dobbiamo raccontargli tutto mamma mia il governatore è una persona importantissima si occupa del villaggio per conto del faraone non so come Sobekotech sia riuscito a scoprire chiedo a Naidi chiedo a Naidi dice di essere amico di uno stregone ma gli stregoni non esistono ma dai troverai il governatore nel suo palazzo ma dai prima però dovrà incontrarti con lo scriva del tempio che cazzo insegnerà le parole importanti della nostra lingua perché il governatore disdegna coloro che non sanno leggere i geroglifici non li ascolta nemmeno vieni duro Naidi torneremo il più presto con le guardie del faraone ho visto il palazzo del governatore sulla mappa quindi ci sarà anche la casa dello scriva richiudiamo la porta prima andiamo dalla casa della vita si sono dislessico scusate dai non me ne frega un cazzo devi insegnarmi a scrivere sto stronzo disegni sul papiro è la scrittura egizia eh ma dai avete fatto bene a venire da me fa stessa voce il governatore è una persona comoda devono esserlo anche coloro che gli parlano salve piacere di conoscervi se volete posso spiegarti il significato dei geroglifici è il primo passo per diventare scriva prendete i papiri che ci sono lì sopra dove sono i papiri dimmi i papiri no non sto stronzo di dieci lati mandù dov'è che devo prendere la roba oh laboratorio of the scriva dimmi lo scriva ti insegnerai i geroglifici fantastico impareremo qualcosa di nuovo quando sei pronto clicca su nuova partita vabbò scegli il livello easy a questo livello devi trovare il geroglifico mancante se hai bisogno di altre spiegazioni aspetta non ci sto capendo un cazzo è un po' a nubi no la i è questo la n trattina la p eh la p è questo bravo ce l'hai fatta bravo puoi provare ancora? no allora clicca su nuova partita no no assolutamente no guarda complimenti sai scrivere in geroglifico adesso andiamo al palazzo scegli la destinazione sulla mappa andiamo 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 the palace of the governator voglio sapere che cazzo vuole il governatore voglio proprio sapere ognuno c'ha da chiedere qualcosa uè ciao vecchio cieco chi siete? riconosco i passi di un bambino cosa volete dal governatore? io sono il suo consigliere sei sordo? cieco sì omo questo cieco non mi piace affatto prima di vedere il governatore dovete dirmi cosa volete io sono il suo consigliere personale non può essere disturbato per delle sciacchezze cosa? sta insinuando che Sobeikotep è un saccheggiatore di tombe? miserabile ti farò dare una bella battuta guardie prendete questo ma perché è tuo amico? sì niente paura ventunesimo secolo arriviamo ma che cazzo benissimo sembra che ci siamo fatti un nuovo nemico quel cieco mi spaventa domani torneremo in Egitto dobbiamo salvare Nai prossimo video poi lo legno poi vedo quello stronzo cieco prossima volta eh? ok ragazzi ci vediamo al prossimo episodio io sono il diabri riposate cadetti io sono i